Un grande murales della bandiera italiana a Sala Consilina nella centralissima via Matteotti, come testimoniano le foto di Adriano Oleta. La cittadina si prepara, come tanti altri centri del Vallo di Diano, a vivere l'ansia e la magia della finale degli europei di calcio che vedrà scendere in campo domenica 11 luglio a Wembley alle ore 21 Italia-Inghilterra. Sono tanti gli appuntamenti in programma in vari paesi del Vallo di Diano, dove già per le scorse partite sono stati allestiti maxischermi nelle piazze o all'esterno di attività come bar, ristoranti e pizzerie. La raccomandazione, seppur si tratta di una serata di festa, è di continuare a mantenere alta l'attenzione in merito alla diffusione del coronavirus. Quindi, anche se si è all'esterno, mantenere le distanze ed indossare le mascherine. Intanto, da Monte San Giacomo arriva, in vista della finale degli europei, un accorato appello da parte del sindaco. Raffaele accetta i suoi concittadini, accetta in vita, in caso di vittoria, a contenere la comprensibile euforia, limitando gli assembramenti in luoghi pubblici ed, in particolare, evitando l'accensione di fuochi d'artificio e botti pirotecnici pericolosi. Un invito che arriva, secondo quanto si apprende dallo stesso avviso a firma del sindaco, dopo l'ultima partita che ha visto la vittoria della nazionale italiana, al termine della quale, proprio l'esplosione di petardi ha provocato danni seri ad un'abitazione ed è stata preoccupazione. Episodi, peraltro, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I festeggiamenti, sottolinea il sindaco accetta, non devono trasformare l'eventuale festa in situazioni pericolose che, se accertate, saranno sanzionate come per legge.